Buongiorno! Allora, oggi con questi capelli che stanno piano piano ritornando alla loro naturalezza, perché erano disastrati, è domenica, sono da sola a casa, ma come ieri, perché Samuele è andato a Roma, ma ve l'ho detto già nel video precedente, e noi siamo a casa appunto, perché stiamo praticamente quasi tutti male, perché Alessandro gli è passato, raffreddore, tosse, sempre la stessa cosa, Aurora ce l'ha nel pieno, io mi sta passando, ma io purtroppo le cose, dovendo mi occupare di Adriano, che è stato male, che c'ha il catarro e che quindi gliel'aspiro, cioè, raga, è impossibile che non prendevo, non prendevo pure io qualche cosa, infatti l'ho preso, però non importa, perché io mi prendo un'aspirina e mi è passato praticamente, non c'ho più niente, e Adriano sta piano piano, piano piano, molto piano, uscendo da questa situazione, speriamo che insomma stasettimana la stanchiamo tutti quanti, perché il 19 comunque ci sarebbe la festa di carnevale qui al paese, e ci andrebbe insomma di mascherarci, visto e considerato che siamo tutti quanti in maschera, tutti e cinque, tre cose diverse, perché logicamente Aurora si vuole vestire da mercoledì, come praticamente mezza Italia quest'anno, e quindi niente, poi è grande, insomma, non passo pretende che si veste la principessa, ma a me comunque a mercoledì piace, per carità, Alessandro si vuole vestire da casa di carta, abbiamo superato la fase supereroi, cioè l'anno scorso è stata all'ultima praticamente, perché l'anno scorso si è mascherato da Hulk, che è il suo supereroe preferito, dopodiché quest'anno basta, ha deciso che superiamo la fase supereroi, per fortuna che c'è quest'altro piccolo, e piano piano, mi vanno i capelli in bocca, e piano piano praticamente ritorneremo alla fase supereroi, e invece Adriano, essendo piccolino, ma tanto piccolo, ho avuto difficoltà a trovargli un vestito per carnevale, quindi, quindi, ci siamo architettati, io e Samuele, per fargli da contorno a una maschera, diciamo, quindi lui avrà il minimo indispensabile di quella maschera, perché logicamente non ho trovato la sua misura, non ho trovato la sua misura perché è piccolo ragazzi, c'ha due mesi martedì, quindi voglio dire, non ce stanno le maschere per bambini piccoli così, non ce stanno, partono comunque da più o meno un anno, nove mesi, un anno, quindi ho dovuto un attimino organizzarmi in un altro modo, però gliel'ho trovato, c'ha degli accessori, quindi sotto l'ovesto, appunto rimasugli, sotto l'ovesto normale, perché comunque è freddo, allora che posso rischiare di farlo rigosa un'altra volta, farlo riammala un'altra volta, cioè assolutamente no, quindi sotto l'ovesto normale, gli metto questi accessori che ho trovato, e io e Samuele li facciamo praticamente da contorno. Diciamo che a me il carnevale piace parecchio, non sono una persona che dice no, io non mi maschero perché mi vergogno assolutamente, cioè io fosse per me andrei sempre a tutte le feste mascherate, però purtroppo almeno qui da me, qui intorno da me non organizzano tante cose, quindi se è al massimo uno si organizza per conto suo, però insomma non è, capite bene che con tre figli comincia a essere un po' complicato anche muoversi per trovare il locale, eccetera, quindi anche no, però c'è stata questa cosa di quest'anno che fanno questa festa, ho detto senti prendiamo la palla al balzo e mascheriamoci. All'inizio volevamo mascherarci io da uomo e Samuele da donna, come abbiamo già fatto quando praticamente ci siamo conosciuti, quindi 12 anni fa, però poi abbiamo detto, però Adriano come lo vestiamo? E allora abbiamo cambiato idea, però mai dire mai. Comunque domenica abbiamo fatto colazione, l'avete vista nella morning routine che vi ho caricato, abbiamo fatto tutto, Adriano ha mangiato la seconda volta, i bambini stanno praticamente di là che stanno guardando Netflix, non so cosa, domani e dopodomani non si va a scuola perché ci sono le lezioni e quindi neanche posso dire fate i compiti perché li faccio fare domani praticamente, io sto sul divano e sto recuperando Harry Potter perché giovedì scorso non l'ho visto perché c'era San Re e quindi lo sto recuperando adesso, ma a parte che lo sto recuperando, li so a memoria ragazzi, c'è poco da fare, oggi non riesco a parlare, sono una fanatica di Harry Potter, quindi comunque li so a memoria, cioè potevo anche fare a meno in realtà di guardarmelo, però va, fa niente e niente, tra un po' preparo il pranzo, anche se devo portare il bimbi in assistenza perché ho un problema con la connessione, secondo me è successo questo, allora io l'ultima volta che ho usato il bimbi, anzi vi chiedo questa cosa, se c'è qualcuno che mi può risolvere questo dubbio, praticamente l'ultima volta che ho usato il bimbi è stato il 26 di dicembre, dopodiché non l'ho più utilizzato e il 2 noi ce ne siamo dovuti andare in ospedale, quindi praticamente il bimbi è rimasto fermo, non è stato fatto niente, non è stato usato, però c'è stato brutto tempo nei giorni che io sono stata in ospedale e so che è saltata la corrente parecchie volte ed è saltata anche le volte successive quando noi eravamo ritornati dall'ospedale, quindi io non vorrei che mi si sia bruciata la scheda, la scheda madre del bimbi. Se così fosse sono un po' nella merd, nella M perché la garanzia mi è finita, quindi se è la scheda madre me la devo pagare con i miei soldini che adesso cominciano un po' a scarseggiare, quindi volevo sapere un attimo se il problema ce l'aveva avuto qualcun altro. Ho provato, perché praticamente mi dice che non riesce, non il bimbi in sé, il bimbi in sé è connesso a internet, non mi si connette CookieDoo e quindi non mi fa fare niente. Mi dice che l'abbonamento non è attivo, cosa assolutamente no, perché il mio abbonamento è attivo fino al 3 luglio di quest'anno, quindi non so, su un gruppo di Facebook del bimbi mi hanno detto di provare a collegare l'hotspot del cellulare, ci ho provato, non ha funzionato, quindi ho capito che non è questione di rete internet, è proprio questione del bimbi in sé. Cercando su internet ho trovato, insomma, un'altra persona che aveva avuto lo stesso problema è che ha dovuto portarlo in assistenza e gli hanno cambiato la scheda madre, quindi speriamo che non sia così, perché sennò sono un po'... Cioè, io lo uso praticamente per tutto il bimbi. Ale? Che c'è? Eh? Sì? Cinque? Va bene. E quindi niente, quindi oggi lo userò, lo sto praticamente usando senza Cukidoo, lo sto utilizzando come i vecchi bimbi. Sfortunatamente Cukidoo, il profilo di Cukidoo con l'app nel telefono mi funziona, quindi riesco comunque ad utilizzarlo in questo modo, però mi mirode un pochino perché, insomma, non è che costa due sordi. E diciamo che io l'ho usato tanto, 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 e lo uso tuttora tanto, 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 proprio lo l'ho fuso, secondo me l'ho fuso, purello, però questo dovrebbe essere il suo scopo. Quindi speriamo che riescano a trovarmi una soluzione all'assistenza. Tutto ciò, sto un altro pochino a vedere Harry Potter, dopodiché mi metto a fare il pranzo. Se vedete che non c'ho voglia di fare niente a pranzo, questo è il pranzo dei bambini, poi vediamo se gli do qualcos'altro. Ma chiama Aurora? Sì. Qui c'è la pizza avanzata di ieri, e quindi scaldiamo anche quella, e poi vediamo. Lui che già sta sul divano a guardare la televisione così, c'è adoro, adoro proprio. Ma magari gli rimanesse sta cosa, magari, ma tanto lo so che non è così, perché poi da così diventano così. Lui è praticamente un nerd diventato, un nerd con la panza. È vero. No, non è vero. Dì la verità. Sei a? Di è? Sta. Sta. È a dieta. Sono due settimane che non tocca un pezzo di cioccolato. Solo sabato e domenica. Solo sabato e domenica, che poi, tra parentesi, non l'hai mangiato neanche oggi. Non l'ho mangiato al pranzo, però l'ho mangiato stamattina. Ah, vabbè, l'ha mangiato stamattina, però c'era bisogno di metterlo a dieta, perché è diventato un panzone. Un panzerottone è diventato. E poi è un nerd. Ne faremo di un... Che è un nerd? È quello che sta sempre attaccato all'elettronica. Ai videogiochi. Perché lui da grande vorrebbe fare il creatore di videogiochi oppure l'addestratore di cani, insomma. Eh sì. Vero? C'è un cane. Ragazzi, è buio, come potete vedere, perché c'è la luce accesa. I capelli, peggio che andare di notte. Ancora più scompisciati. Scompisciati? Più... Vabbè. I capelli, un macello. Cioè, sto veramente più gonfi che mai. Sto facendo la cena. Sono male tornato. Sto facendo la cena. Sto facendo col bimbi pasta e lenticchie. E adesso metto a fare anche una verdura. Penso che farò gli spinaci. E poi basta. E poi ceniamo e guardiamo un po' di tv. E stop. Sanremo è finito. Abbiamo fatto una maratona di quattro giorni. E stasera a mezzanotte escono i nuovi episodi di Mare fuori su Rai Play. E non vedo l'ora. Alla fine ho ceduto. Alla fine l'ho visto. Alla fine l'ho visti. e sono rimasta a parte il cambiamento proprio che ha fatto Carmine. Cioè... Che non c'è niente da dire. Insomma, ha fatto un po' di palestra ha messo un po' di muscolo e Carmine è rifiorito. e quindi oltre a a Pino che già mi piaceva da prima adesso ci si metterà anche Carmine. Mi sta piaciando mi piace tantissimo il personaggio di Rosa Ricci come l'hanno strutturato e lei è bravissima veramente brava e basta quindi non vedo l'ora stasera anzi stanotte in maniera tale che domani mattina li vedo dan 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 messo così cioè ma ti stai stai sistemando i mangialoni? lo è tornato madonna cioè sembra gigantesco questo maioci sembra più grosso di quello che è vabbè oh e dai no che posa mica sei posamen no 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 va bene e ok direi che possiamo chiudere anche qua visto considerato che insomma non li faccio vedere i due muscoli no piantala è gelosa è gelosa è gelosa va bene noi facciamo l'aperitivo e ci vediamo domani